Cosa vuol dire per voi agenti mobiliari ROC? ROC per noi significa rottura, rottura degli schemi, rottura di un sistema che per molto tempo è stato gestito in maniera arcaica e che necessariamente deve essere supportato da strumenti adeguati e dalla giusta motivazione. Ok, quindi sostanzialmente la vostra azienda cosa introduce nel mercato, nel modello di mediazione, cos'è che introduce di diverso? Beh, in realtà la nostra azienda si propone fondamentalmente di dare strumenti innovativi agli agenti mobiliari, dare strumenti con i quali possano ottimizzare le loro attività e aumentare il loro fatturato. Chiaro. Voi parlavamo ieri sera a cena, siete una start-up, è giusto chiamarvi una start-up? Ormai diciamo abbastanza, è un po' arcaico però sì. Però siete completamente italiano? Assolutamente sì. Come azienda? Devo dire che questa è proprio la nostra forza, nel senso che piuttosto che adattare un modello importato, aver costruito tramite l'esperienza dei nostri principali attori, gli agenti, una realtà funzionale sulla base delle loro esigenze, dei loro feedback, è proprio quello che ci contraddistingue. Ok. Voi diciamo venite definite spesso come un'agenzia ibrida. Cosa significa essere un'agenzia ibrida? Allora, un'agenzia ibrida e soprattutto la nostra realtà è un'agenzia che si propone di utilizzare, sfruttare e fammi dire Alessandro valorizzare l'esperienza sul territorio, l'esperienza locale di agenti che da anni sono proprio completamente addentrati nelle attività, facilitando i flussi, facilitando l'organizzazione e rendendo più semplice quello che tutti gli agenti immobiliari dovrebbero poter fare, gestire solo l'aderazione con il cliente. Quindi date tutta una serie di servizi e strumenti per far possibile che l'agente immobiliare possa dedicarsi alle relazioni con il prossimo, senza dover pensare a tutto il back office, tutto il lavoro. Sì, in realtà è proprio questo il nostro obiettivo, cioè elevare il livello del professionista, il professionista che deve occuparsi di massimizzare i profitti, massimizzare le attività e parliamoci chiaro, le attività di un agente immobiliare partono dalla relazione con il cliente. Il cliente non sceglie l'agente perché fa parte di un brand, il cliente sceglie l'agente perché si fida di lui e l'unico modo per stringere questo tipo di relazioni, di fiducia, è mantenere relazioni costanti, cosa un po' complessa per gli agenti immobiliari che devono occuparsi di gestire le chiamate in entrata, gestire la pubblicità, i portali, confermare gli appuntamenti. Mi sono trovata spesso nella mia esperienza professionale a dover gestire, passami il termine, le lamentere degli agenti che erano tutto fare, quindi tu lo sai meglio di me, gestire le chiamate in entrata, confermare, seguire anche un po' i capricci dei clienti. Ecco, nella nostra realtà che tu hai chiamato ibrida, forniamo degli strumenti assolutamente ottimizzati sulla base delle richieste degli agenti per fare in modo che loro possano dedicarsi solo alla relazione con il cliente, nei punti strategici del customer journey, quindi l'acquisizione, la negoziazione e poi la compravendita finale. Se facciamo un escursus su quello che è la vita dell'agente immobiliare, la vita, la storia delle agenzie immobiliari, si nasce per strada il mediatore, il sensale in piazza, si passa poi ai negozi fisici, quindi i primi franchising che invogliano e invitano ad aprire dei negozi con vetrina per ricevere il cliente, poi si è passati agli uffici ai primi piani, adesso si è ritornati all'ufficio in strada sempre con il negozio. Il vostro modello di business prevede delle sedi fisiche per fare il proprio lavoro o credi che il futuro dell'agente immobiliare sia quello di essere sul territorio in strada ma non necessariamente in una sede fisica? Ti ringrazio per questa domanda perché è necessario sfatare questo mito. Nella nostra realtà puntiamo molto su fare in modo che l'agente immobiliare sia assolutamente soddisfatto e pienamente entusiasta della vita quotidiana che vive. necessariamente nel mercato italiano questo non è possibile senza mantenere una relazione fisica con il cliente, è un po' quello che ti dicevo prima, il fatto di essere una realtà nata qui con un focus su quelle che sono le esigenze dei nostri agenti in quanto agenti italiani. Quindi sì, la risposta è il nostro modello di business prevede degli hub nelle principali città e insomma il nostro obiettivo è quello di avere poi una copertura capillare dove i nostri agenti possano utilizzare gli spazi per accogliere i clienti, gestire le attività. Ma tutto il resto, tutta la parte burocratica, tecnologica, organizzativa, tutta la parte di lead generation marketing viene gestita dal quartier generale a Roma con un team di 32 professionisti, assolutamente gli agenti. Quindi insomma un back office bello sostanzioso. Assolutamente. Quello sì. E il vostro, se dovessimo fare un identikit dell'agente immobiliare tipo che diventa un rock agent, cosa puoi dirmi? Allora, devi sapere Alessandro che questo è un dato che nel mio percorso professionale mi ha molto colpita. Siamo un po' in controtendenza rispetto agli standard. Dal 2019 abbiamo ricevuto oltre 5400 candidature, 1500 negli ultimi sei mesi. Noi non reclutiamo agenti, noi selezioniamo talenti. Il nostro percorso di selezione conta quattro step al termine dei quali valutiamo insieme al candidato se è giusto inserirsi nella nostra attività. Decisamente quello che il rock agent cerca nei suoi agenti è il coraggio. Il coraggio di intraprendere un percorso, di non sentirsi mai arrivati, di essere curiosi, di evolvere insieme. Ci definiamo sempre un'azienda molto dinamica. Considera che ogni attività, ogni feedback che viene condiviso da un agente per noi è oro, perché ci dà modo di creare dei supporti ancora migliori per aumentare il profitto dei nostri agenti. Quindi di sicuro cerchiamo uno stile elegante, un approccio da grandi professionisti, ma facciamo anche tutto quello che è il nostro potere per dargli la possibilità di dedicarsi a quello. Al lavoro, al lavoro. Il vostro modello di mediazione cosa prevede? Il nostro modello di mediazione prevede la possibilità per i nostri agenti di gestire le attività in maniera condivisa con il back office a supporto del tutto il processo di vendita, quindi dalla parte di acquisizione, la moderazione degli annunci, la pubblicità sui portali, che ovviamente è una pubblicità di grande impatto, tutto l'investimento che facciamo nella visibilità, nella lead generation. Considera Alessandro che dal 2018 ad oggi abbiamo investito 2 milioni 600 mila euro in marketing, in pubblicità. Questo ha permesso ai nostri agenti di essere visibili, ha permesso ai nostri agenti di avere più opportunità e ha permesso a noi di generare oltre 4 mila 600 notizie digitali da assegnargli e quindi possibilità di sviluppare ulteriormente il loro profitto. Se dovessi risponderti in maniera ancora più concreta potrei dirti che l'obiettivo di Rock Agent è quello di, su due binari paralleli, supportare la gente nell'essere più visibile tramite un importante progetto di lead generation e di marketing e quello di sfruttare il suo tempo per acquisire e quindi gestire le relazioni con i clienti. Certo. Siete entrati in un mercato, prima i dati che dava Gerardo, il numero delle agenti immobiliari è aumentato, quindi siamo a circa 51 mila, poco più di 51 mila partite IVA che fanno intermediazione. solo una piccola parte però rientra nei franchising, nei brand più noti che sono noti sia a livello nazionale che internazionale. Quindi c'è una vastità di partite IVA che sono, come me per esempio, che sono Alessandro Pasquale Immobiliare, sono indipendenti. Come interpreti questo dato? Secondo te perché l'agente immobiliare preferisce essere per conto suo piuttosto che non come Rock Agent o con un altro brand alle spalle? Allora, sicuramente il dato che hai condiviso è un dato che abbiamo analizzato. Una piccolissima percentuale degli agenti fa parte di brand e in realtà la cosa, un po' se vuoi simpatica, lasciamelo dire, è che tutti i brand sono concentrati su quella piccolissima percentuale. Io invece ritengo che gli agenti, la maggior parte, abbiano finora ritenuto più utili essere indipendenti in quanto abbiano percepito nei brand dei vincoli. Qualcosa che li limitasse piuttosto che li spronasse ha un futuro più, un futuro ottimizzato. Quindi posso dirti che il nostro, la nostra proposizione di valore che come primo esercizio della mia attività ho dovuto fare, quindi mi sono seduta accanto agli agenti della nostra attività cercando di capire che cosa possiamo offrire agli agenti, esprime in maniera assolutamente chiara la risposta alla tua domanda. Zero vincoli, zero spese, solo opportunità. È difficile che rispetto al tipo di mercato che abbiamo di fronte un agente non possa percepire questo come un vantaggio. Ok, quindi insomma un brand che lascia la libertà di essere se stessi? Un brand che valorizza le competenze degli agenti, assolutamente sì. Lato invece, non so se questa è un'informazione che hai, lato invece utente finale, che risposta avete dai vostri agenti nell'approccio con l'utente finale? Guarda, la cosa che mi sorprende sempre, ho accompagnato i nostri agenti in valutazione per avere proprio questo feedback e quello che traspare è l'obiettivo raggiunto rispetto alla nostra vision, che era quella di fornire un servizio trasparente e di altissimo livello per i nostri clienti. I nostri clienti sono assolutamente coccolati e lo certificano le centinaia di recensioni eccellenti su tutti i portali di feedback. Questo per noi è un tema essenziale perché tutti noi, no? Ormai acquistiamo online. Prima di fare un acquisto andiamo a vedere che tipo di valutazione i clienti hanno percepito prima di, dopo l'acquisto fatto. Ecco, ovviamente in un mercato virtuale questo tipo di approccio è essenziale, cosa che finora, lasciami dire, gli agenti immobiliari hanno un po' lasciato al caso. Invece devo dire che il primo modo per avere una recensione da un cliente è semplicemente chiedergliela. E quindi questo è un tema assolutamente interessante. Diciamo che prima di chiedere la recensione bisogna fare un buon lavoro prima. Esattamente. Poi si chiede la recensione perché probabilmente non viene chiesta perché in alcuni casi la recensione potrebbe non essere positiva. Essendo noi concentrati moltissimo su tutto il percorso, quindi potendo garantire in prima persona con un team, come ti dicevo, importante di oltre 32 persone, tutti i passaggi del customer journey, siamo abbastanza certi del tipo di esperienza che ha il cliente. Anche perché, come ti dicevo prima, selezioniamo le persone che sono, non essendo un franchising, nostri diretti rappresentanti sul territorio. Ok, quindi diciamo, non è solo, è un brand ambassador l'agente immobiliare Rock Agent. Assolutamente, un brand ambassador con una vision condivisa che è qualcosa di molto importante per noi. Hai fatto cenno spesso al processo, diciamo, di qualità sia nella selezione degli agenti Rock Agent che nell'operatività dell'agente Rock Agent. In termini di formazione voi cosa fate? Allora, in questo momento abbiamo strutturato e inaugurato la nostra nuova academy e abbiamo un percorso di inserimento per i nostri agenti che conta veramente due mesi di onboarding in maniera, gestiti in maniera molto molto importante. Li accompagniamo in ogni singolo passaggio, li accompagniamo fino a quando non sono completamente indipendenti nelle attività, assicurandoci ovviamente che rispettino gli standard di cui ti parlavo prima. Mettiamo loro a disposizione un coach una volta a mese per incrementare le capacità e le competenze, gli forniamo ogni mese tre pillole tecniche, tecnico-legale per aggiornarsi e poi anche le pillole strategiche che, insomma, ci permettono di aumentare altri tipi di competenze che non sono proprio quelle tecniche. Per il lavoro quotidiano. Secondo te come vedi il futuro dell'agenzia immobiliare? Allora, si parla tanto di tecnologia, sostituiranno gli agenti immobiliari, non la sostituiranno, i portali vendono le case, non vendono le case, ci sono gli buyer, ci rubano il lavoro, siamo una categoria di piagnoni fondamentalmente, quindi ne assumo le mie responsabilità. Come vedi il futuro dell'agente immobiliare e dell'agenzia immobiliare? Vedo un futuro di opportunità, vedo un futuro di opportunità per tutti quegli agenti che sapranno analizzare quanto non possa essere più prescindibile utilizzare la tecnologia come strumento. Ora, parto da un dato che sappiamo tutti, nel 2021 sono state effettuate una 759 mila compravendite, di cui più o meno solo il 55% sono state gestite da professionisti del settore e dobbiamo chiederci perché. Innanzitutto io ritengo che quella grandissima fetta di oltre 330 mila compravendite sia stata gestita da clienti privati che si sono evoluti, sia necessariamente per motivi demografici e quindi sono più predisposti alla tecnologia, ma anche perché il lockdown ci ha dato una spinta, un turbo tecnologico che non tutti gli agenti hanno saputo gestire ed utilizzare a loro favore. Ritengo quindi che nel prossimo futuro la grande opportunità sia quella di aggredire, passami il termine, quella fetta non piccola di compravendite potendo cercare di rispondere alle esigenze dei clienti che sono di sicuro più preparati, più informati e anche hanno voglia di essere più protagonisti del percorso di vendita. E devo dire che il nostro approccio è stato costruito sulla base di queste esigenze, dando la possibilità agli agenti di essere visibili, contattabili e valutabili. Anche quello è un tema molto caro ad alcuni agenti immobiliari, la valutazione del proprio operato come strumento di marketing. Un altro dato che Gerardo non ha fornito, ma questo è un dato che mi porto da altre esperienze. L'agenzia immobiliare media italiana è composto da 1,26 persone. micro realtà. Ovvero, esatto, micro realtà. Quindi 51.000 partita IVA, la maggior parte sono agenti singoli. Sono utenti che potenzialmente possono essere rock agent? Cioè voi lavorate con il singolo agente, lavorate con agenti strutturate? C'è una differenza in come vi approcciate tra tutti e due? Allora, la risposta alla tua domanda è sì. Tutte le persone che hanno una visione condivisa con la nostra possono essere agenti rock agent. Sì, alla fine del percorso di selezione risultano allineati ai nostri standard. In un mercato così frammentato la vera domanda è che strumenti possono permettersi le agenzie che contano 1,50 agenti a prendo, a realtà. in un mercato dove i portali sono sempre più protagonisti, in un mercato dove il cliente è consapevole di quello che il mercato offre, una micro realtà veramente rischia di non essere all'altezza delle aspettative del cliente. Quindi di sicuro il nostro interesse è trasmettere un'opportunità ai singoli agenti e perché no, se dei team corrispondono a quelle che sono le nostre, la nostra visione, i nostri standard, assolutamente enfatizzare e valorizzare la loro esperienza può essere sicuramente un'opportunità. Credi che il modello agente singolo sia un modello sostenibile nel lungo periodo, nel futuro? Se l'agente singolo si mette in discussione e gestisce in maniera furba la digitalizzazione e si fa aiutare da brand come noi, assolutamente sì. Diciamo che oggi c'è una platea di strumenti digitali, oltre anche alla vostra azienda, che è un sistema di gestione proprio del lavoro quotidiano dell'agenzia, più tutti gli strumenti che abbiamo visto prima, possono consentire a un agente singolo di fare la propria attività ad un livello soddisfacente, anche da un punto di vista qualitativo, giustamente come dicevi tu. Però io credo personalmente che l'aggregazione, anche sotto forma di queste nuove agenzie ibride, quindi con una casa madre e poi una rete distribuita su tutto il territorio, possa essere un futuro per gli agenti immobiliari, perché stanno iniziando ad entrare dei player molto importanti sul mercato, come dice anche le recenti acquisizioni, con ingenti capitali, poi insomma voi avete 2,6 milioni di fatturato, un agente immobiliare medio non lo fa in tutta la sua carriera, probabilmente di sicuro non li puoi investire in visibilità. Non si possono investire certamente in marketing. Sai che c'è Alessandro, ci tengo a dirci una cosa, l'attività che noi facciamo e gli investimenti che facciamo sono solo un mezzo, un mezzo per arrivare al nostro obiettivo principale, che è avere una rete di agenti che sia finanziariamente ed emotivamente soddisfatta, e non è cosa da poco nel mercato odierno. Adesso la vostra rete, come distribuzione, quanti agenti contano? Siamo circa 100 agenti in tutta Italia e il nostro obiettivo da qui ai prossimi 24 mesi è quello di arrivare a non ti spaventare. Solo 260 agenti. Insomma, vuol dire che c'è un processo di selezione? 260 selezionatissimi agenti che potranno contare su investimenti, il supporto, l'organizzazione per creare un progetto che sia qualitativo e non quantitativo.